Continuano i colpi di scena sulla vicenda di SGP, la società patrimoniale del Comune di Sassuolo a totale partecipazione pubblica, nata nel 2005, gravata nel corso degli anni da un importante debito e oggi sottoposta a una procedura concorsuale, quella del concordato in continuità. La Guardia di Finanza, a conclusione delle indagini relative all'operato della società nel periodo 2006-2013, ha denunciato due amministratori per falso in bilancio e un dirigente comunale per abuso d'ufficio. I primi due reati riguardano un artificioso occultamento delle perdite effettuato tramite sopravvalutazione delle immobilizzazioni patrimoniali, finalizzato a rendere più facile l'accesso al credito per la società. E sono proprio i mutui contratti da SGP ad essere alla base del deferimento all'autorità giudiziaria di un dirigente comunale che ha firmato lettere di patronage forti, quindi in tutto e per tutto simili a delle vere e proprie fideiussioni, senza averne però la necessaria autorizzazione dal Consiglio Comunale. Il sindaco Claudio Pistoni, commentando la vicenda, ha detto di avere piena fiducia nel lavoro della magistratura e di essere pronto a collaborare con le forze dell'ordine per ulteriori indagini che possano fare chiarezza su quanto accaduto durante i primi anni della società. L'esito degli accertamenti delle fiamme gialle che sono stati disposti dal pubblico ministero Katia Marino è stato anche inoltrato alla Corte dei Conti che ora dovrà valutare se ci sono stati dei danni alla pubblica amministrazione, dei danni erariali. Nell'intervista che ascoltiamo, il commento alla vicenda di Luca Caselli che sulla nascita di SGP ha presentato diversi esposti e che dal 2009 al 2014 è stato anche sindaco di Sassuolo. Questa indagine origina da un esposto che io ho firmato nel maggio 2014, denunciando sia la questione della lettera di patronage, si tratta sostanzialmente di garanzie che il Comune ha dato nel 2009 quando era sindaco Pattuzzi tramite un dirigente che le ha firmate senza avere nessuna autorizzazione da parte del Consiglio Comunale come dovrebbe essere per legge. Queste garanzie pesano per 50 milioni, solo queste. Sono state messe a bilancio successivamente nel bilancio del Comune correttamente da parte nostra, però al di là di quello che si legge nel comunicato della finanza, io non ho letto gli atti e sinceramente non mi va di commentare un'indagine complessa dove sostanzialmente leggo solo un comunicato stampa. Quello che emerge è che SGP è una società che è nata, già indebitata, è stata indebitata per fare opere pubbliche di dubbia utilità come la pista copiata d'Atletica per dirne una, quella che si allaga continuamente, o la ristrutturazione dello stadio per eludere il patto di stabilità, i Comuni hanno il patto di stabilità e lì qualcuno ha voluto spendere quello che il Comune non aveva. Questa vicenda non ha né vincitori né vinti oggi, l'avevamo detto conta poco, nel senso che oggi chi paga è la città di Sassuolo e questa è una mara realtà. È stato lei a proporre il concordato in continuità per SGP quando il debito ha toccato un punto forse di non ritorno e pensa che adesso aver chiarito delle responsabilità e aver inviato anche un esposto alla Corte dei Conti, questo è quello che ha fatto la finanza, possa aiutare anche il procedimento di rimesso in sesto di questa società? Ma l'esposto alla Corte dei Conti noi l'avevamo già fatto nel 2011 e l'abbiamo fatto anche con quell'esposto del 2014, ne abbiamo fatto uno anche in mezzo. Abbiamo continuato a segnalare la situazione di questa società nei cinque anni di mandato, è bastato, è servito, non lo so, non credo, però sostanzialmente oggi la situazione è un bivio o i concordati in continuità che noi avevamo proposto e quelli che oggi lo sostengono votarono contro, sollevando la città contro di noi passa e allora si riesce a mettere in sicurezza SGP e in qualche modo riusciremo a pagare i debiti come città nei prossimi 10-15 anni oppure salta tutto e possiamo fare la fine di Parma, quindi questa è la situazione. Io ho fatto il ricorso per mettere in concordato in continuità SGP e di questo sinceramente sono felice perché oggi anche quelli che votarono contro dicono che è necessario fare. Vedremo come andrà, di certo cambiare continuamente questo concordato non aiuta, ma io ho la massima fiducia nell'amministratore unico attuale Corrado Cavallini e spero che in qualche modo ci saltiamo fuori. Fare chiarezza serve perché serve acclarare le responsabilità di ciascuno e mi ci metto per primo, attenzione, mi ci metto per primo visto che ho fatto il sindaco, ma voglio che siano acclarate le responsabilità di tutti e spero che la magistratura vada anche oltre, vada a vedere perché il personale del 2007, molti dipendenti furono assunti senza bando e voglio anche sapere se qualche amministratore di allora, cioè della giunta precedente alla mia, su SGP ci ha mangiato e queste cose le ho dette in piazza e le dico anche qui. Tra le opposizioni particolarmente duro è stato anche il Movimento 5 Stelle che già in campagna elettorale aveva denunciato irregolarità nella gestione di SGP sia durante la giunta Patuzzi sia durante la giunta Caselli. Ecco le parole del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Silvano Rutigliano. Sono novità per i cittadini perché per noi non lo sono da più di due anni, anzi anche prima perché lo sostenevamo prima che ci fossero le elezioni, lo abbiamo sostenuto in campagna elettorale, leggendo i bilanci, leggendo i documenti, le irregolarità che tra l'altro ha palesato la Guardia di Finanza sono soltanto una parte e quello che non emerge nelle denunce della Guardia di Finanza sono le responsabilità politiche che sono gravissime. Noi temiamo che questa mossa della Guardia di Finanza alla fine serva solo per dare una visione generale e fare un po' lo scaricabarile sui tecnici quando in realtà le responsabilità sono soprattutto politiche. Questo è soltanto uno dei problemi, ce ne sono diversi che sono ben gravi, altrettanto gravi e adesso la gente comincia a rendersi conto che non stavamo scherzando quando dicevamo che c'erano delle problematiche serie che hanno messo in ginocchio il Comune. Da questa situazione di difficoltà si può uscire anche grazie agli accertamenti che la magistratura sta facendo e continuerà a fare? Le vie di uscita come abbiamo visto non sono tante, anche se l'amministrazione le sta cercando arrampicandosi sugli specchi, lo dimostra il fatto che nel giro di pochi mesi il bilancio che è stato presentato è partito da un passivo di 7 milioni, poi miracolosamente sono diventati 26, adesso 48 milioni. Si può parlare di un bilancio creativo, noi abbiamo i documenti in mano che finalmente ci sono arrivati perché subito dicevano che noi del Movimento eravamo cittadini e non avevamo le competenze per gestire un Comune. adesso con le domande che facciamo ci accusano di essere troppo tecnici e troppo specifici, adesso provo ad essere molto più semplice per farvi capire. Una spesa per lo stadio che ha un valore complessivo di 8 milioni, sono stati investiti 2,2 milioni per interventi fatti all'interno dello stadio, con il nuovo conteggio di svalutazione oggi lo stadio varrebbe 500 mila euro, è inconcepibile una cosa del genere. Allora perché si sono fatte delle svalutazioni e si sono portati dei debiti fino a questo punto? Servono solo per continuare il gioco che la Guardia di Finanza ha denunciato, si nascondono i debiti per avere finanziamenti e per poi gestire i mutui non si sa come, noi abbiamo chiesto che ci venga detto in modo pronto e preciso se i mutui che ha contratto SGP sono stati spesi per le finalità richieste, da novembre non c'è stata data risposta e nell'ultimo Consiglio Comunale il segretario ci ha detto non possiamo darvi la risposta perché SGP non ci ha dato i documenti, ma questo è paradossale e assurdo, se vengono fatti i bilanci quei documenti ci devono essere. Il Partito Democratico infine ha affidato al neosegretario Matteo Mesini il commento sulla vicenda e sulle indagini disposte dalla Guardia di Finanza sull'operato di SGP, sentiamo il suo commento. Nel 2006 quando risalgono l'inizio di queste denunce e dell'inquisizione io probabilmente stavo facendo l'esame di terza media quindi su quei fatti lì faccio fatica anche a risponderti per esperienza personale e sicuramente noi crediamo che le forze dell'ordine debbano andare avanti che le loro indagini per appurare ci sono state delle illegalità, per noi la legalità viene prima di tutto, non ha un colore politico e deve essere un prerequisito di chi amministra al bene comune. Quello che ci aspettiamo e che auspichiamo è che questa indagine qua non vada infangare tutto il lavoro e l'energia e l'impegno che stiamo mettendo da giugno del 2014 per risanare questa società e per risolvere la drammatica situazione del nostro comune. Con la situazione di SGP è particolarmente complessa, c'è un debito importante, c'è un concordato in continuità che sta ritardando un pochino i tempi nel senso che doveva essere una procedura veloce ma ormai sono passati diversi mesi, alla fine adesso qual è il futuro della società? Che cosa ci aspetta? Noi, come ha detto anche il sindaco Pistoni, abbiamo cambiato un pochino il piano concordatario perché non era sostenibile per il comune, avrebbe portato a un taglio di risorse in 5 anni di 15 milioni di euro, quindi è stato rimodificato, sarà la società a contrarre un motto da 20 milioni per pagare, ricordiamo che sono 18 milioni di debiti nei confronti dei fornitori e il costo della procedura concordataria. Quindi noi spieghiamo che il lavoro che stiamo facendo possa procedere al meglio, i bilanci arriveranno in consiglio la prossima settimana e noi siamo fiduciosi dell'esito che avranno anche le indagini e poi dopo il piano concordatario che sta passando in tribunale.